Un incontro di pittura per i primi dieci anni dell'Associazione Culturale Movimenti di Motta di Rivenza. Vediamo. Palazzo La Loggia di Motta di Rivenza, siamo con Bariviera Adelina, membro dell'Associazione Culturale Molmenti. Ecco, innanzitutto, perché Associazione Culturale Molmenti? Perché Molmenti è un pittore illustre nato a Motta di Rivenza e come ci sembrava logico, intitolare, visto che noi ci dedichiamo alla pittura, a un nostro compaesano. Ecco, oggi qui ci sarà una mostra di pittura importante fatta da suoi colleghi e anche lei espone. Perché avete voluto fare questo incontro di pittura? Dunque, l'incontro di pittura, questa mostra che facciamo oggi, è per ricordare che l'Associazione vive già da dieci anni e come tale era giusto, sembrava, di portare a conoscenza anche dei cittadini motensi l'esistenza di questa nostra associazione che ci dedichiamo all'arte, alla pittura, come il nostro grande concittadino Movimenti. E fino a quando sarà aperta questa mostra? La mostra rimarrà aperta fino al 22 dicembre, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.